E' che tamina in queste? Ma perché devi sempre prendere qualcosa? Io direi di aspettare le analisi di laboratorio per poter valutare correttamente l'origine dei suoi sintomi. Vorrei che la sua permanenza qui fosse una libera scelta. Ha una condizione, se non reggo taglio la corda. Posso avere il mio computer e il mio controller per suonare? Perché no? Certo, lo può adoperare a condizioni di non fare troppo rumore. Il livello di cocaina è un top di questa Iparei. Nel suo sangue c'è un campionario di tutto quello che offre il mercato. Ma la cosa che più mi lascia perplessa sono i 40 mg di PMA che erano contenuti nelle pillole, praticamente una bomba. E' potenzialmente letale, non credo serva aggiungere altro. Ti devo parlare. Per il momento Alice ha bloccato l'uscita dell'album. No, aspetta, io pago di tasca mia. Perché hai bloccato il cazzo di album? Ascolta, non si può fare. Sono un sacco di soldi. Pensi che sia un cazzo di direttante? No, guarda... No, guarda... No, guarda... Non ho la pretesa che creda in Dio Né gli ho mai imposto niente Ma in qualcosa deve porcare tre Signor Caro Io ritengo che suo figlio sia un ragazzo molto sensibile E penso anche che abbia una fede Lui crede nella musica Se le interessa la mia opinione Beh, Matilde ci ha preso Anch'io ho sentito i nuovi pezzi E sono veramente notevoli Sarebbe un'idiozia non farlo uscire Grazie a tutti